È un periodo assurdo, un periodo impensabile, un periodo folle. Io mi occupo di musica, mi occupo di arte e vedo che tutti gli artisti sono silenti, tutti zitti, tutti chiusi in casa, tutti a fare qualche direttina, eccetera, ma nessuno. Io mi aspettavo che dopo che Conte diceva, sì poi ci occuperemo di questi artisti che ci fanno divertire, mi aspettavo che il giorno dopo i grandi artisti tutti fossero davanti a Monteggitorio vestiti da pagliacci dicendo, ecco siamo qui a fare, siamo i vostri giullari, siamo a farvi divertire. C'è una mancanza di rispetto incredibile nei confronti dell'arte, della cultura, di tutto. Tu pensi ai musei chiusi, ma di che cosa stiamo parlando? Che assembramenti avete mai visto nei musei? I dischi, i negozi di dischi chiusi, però lo puoi comprare su internet. Ah, ho capito. I ristoranti chiusi, però c'è l'applicazione su internet dove puoi ordinare da mangiare, un canolo siciliano o lasagne polonese. Tu pensi che ci sia il ristorante polonese che fa le lasagne e il pasticciere siciliano che fa il canolo? No. Quindi allora non è che stanno portando tutto sul web per avere il controllo totale, per far guadagnare soltanto chi gestisce il web. Questo è quello che sta accadendo. Nella musica, nella musica è già accaduto, ormai no? La musica ormai chi compra più i dischi, sì ok, il vinile sta avendo un revival, però tutto è sul web, tutto è Spotify, tutto è. E cosa fanno questi? Gestiscono. Perché oggi è Spotify che dice alle case ecografiche ho bisogno che facciate uscire un disco di quell'artista con i duetti, ho bisogno di un duetto. E la case ecografica con gli artisti deve uscire perché Spotify vuole questo. Cioè ormai l'arte di cui io mi occupo è tutta asservita. E questo è il dramma. Il dramma di oggi è, di fatto ho fatto una diretta sul mio sabato sera, dove sono gli artisti? C'è l'arte, ma non solo la musica, l'arte di Picasso che dipinge Guernica, dove fa vedere una strage dei nazisti e la espone a Parigi, all'Expo di Parigi, e quando l'ufficiale della SS dice perché lei ha fatto questo quadro? No, io non ho fatto questo quadro, l'avete fatto voi, io se l'ho dipinto. Cioè ormai la realtà è fuori dalla televisione, difatti anche voi siamo ancora in televisione, certo perché la televisione... Però siamo. Però ad esempio qui ci sono mille persone soltanto su Facebook, sto vedendo, siamo arrivate anche mille e due, quindi vuol dire che, e attenzione, se non paghi non ti danno i numeri. Quindi c'è una realtà fuori, la gente rimane legata... Io personalmente non rispetto la televisione, io non guardo la televisione tranne qualche volta un Gran Premio MotoGP da esattamente da un anno e due o tre mesi. E devo dire che mi sto disintossicando, sto da Dio, sto benissimo, e so le notizie prima degli altri, perché le notizie che danno in televisione non sono le notizie, sono quello che vogliono farti sapere. Esatto, esatto. Cioè è come se avesse un algoritmo che ti connessi facciano sapere questo. Le stessi social hanno gli algoritmi. Se tu ad esempio sei, ti dico l'assurdo, uno che crede che la Terra sia piatta, loro lo sanno che tu sei questo, attenzione, quando tu vai su Google e vai a cercare, e dici Terra piatta, ti arrivano tutti i notizi che sembra che tutti crede che la Terra sia piatta. Perché? Perché vogliono che tu rimanga lì dentro. Quindi noi viviamo in una bolla dove gli algoritmi ci condizionano, ci fanno credere cose che non sono vere. Voi tutti credete che quello che vi dice la televisione è vero? Non è vero. Diciamola a quelle che ci stanno seguendo. E' vero però quelle che diciamo noi. Sì, ma questa è un'osia parte, lascia stare. Ecco, ma no madre. No, non è vero. Cioè vi dico delle robe che non sono vere. Terribile. Il concetto è questo, perché io dico dove sono gli artisti? Perché solitamente uno che fa l'arte dovrebbe essere il primo a dire che cosa sta succedendo. Invece noi, non so se voi avete visto l'unico, forse non l'avete notato. L'ha notato grazie a te Michele e me l'ha fatto notare in un articolo che ha fatto su Opti Magazine. Allora, Festival di Sanremo, normalmente c'era il Festival di Sanremo e il primo maggio. Sì. Erano due manifestazioni importanti. Il Festival di Sanremo aveva un cast, il primo maggio aveva il cast alternativo. Ok? Il cast del Festival di Sanremo lo avete visto tutti sul palco del primo maggio. E perché? Perché sono tutti allineati. E non venitemi a parlare di Fedez che ha fatto chissà che cosa. Tutto preparato, tutto giocato. Anche perché, scusa un attimo, ma ti dico, noi siamo in diretta adesso, no? Sì. Se volessi fare una buttata, una sparata, la farei. Se io mando a te prima il testo, guarda che quello che voglio dire, e in quello che io voglio dire offendo delle persone, tu mi diresti, Vito, no Red, questo cavolo, non puoi farlo questo. Ma perché se io voglio fare una sparata devo mandare a te un testo prima? Perché voglio che tu mi chiami, mi telefoni, per dirmi, questo non lo devi fare. E io sono già pronto lì che sto registrando la telefonata. E quando vado su quel palco ho già la telefonata in tasca. E chi vado a colpire, guarda caso, il partito che puoi colpire. Perché non vai a colpire, hai capito? L'altra cosa, giustamente, che ha fatto notare Selvaggia Luccarelli, che ha fatto un articolo molto interessante, è questa. A parte il fatto che io ho postato un post che è incredibile di uno che ha detto ma perché Fedez, per parlare contro l'omofobia, non è andato in Oman, quando è andato in Oman, dove li mettono in carcere, eccetera, a pubblicizzare i suoi tre con la moglie, non ha detto però voi qui mettete in carcere gli omosessuali. E poi sono saltate fuori tutte le canzoni che Fedez ha fatto contro i gay. Ma la cosa più bella è stata, visto che si parlava di lavoro, è il primo maggio, no? Si parla di lavoro. Bene, tu sei testimonia all'Amazon e prendi milioni di euro da Amazon. Perché non vai sul palco e chiedi che Amazon tratti meglio i suoi dipendenti visto che sono costretti perché non hanno tempo a fare pipì nella bottiglia? Io farei un grande applauso qua a regia perché se lo merita. No, ce ne andrà a fare.